Chiesona. Chiesona, chiesona, chiesona. Chiesona. Questi preti. Ecco, chi sa dove trovano tutti questi sogni? Per fare delle chiese, c'è meno delle fortezze. Tutti in cemento armato. Chiesa, poi c'è il campo da corte aneste. Il campo da corte. Viva. Man. Questo non si sa cos'è. Ah, è la palestra. È una palestra. Una palestra privata, forse. È una palestra. È una palestra. Esatto. È una palestra. È una palestra. È una palestra dove andavo a entrare. Adesso è la Johnny Croce, ma qui vigili, la Casina Gialla, vigili che chi li ha mai visti, io non ho mai visto un vigile. Adesso dietro la Casina Gialla c'è una biblioteca nuovissima, modernissima, ha uno studio gigante, wifi da tutte le parti, milioni di libri. Adesso non si vede, ma è una roba, c'è la biblioteca, sopra, sotto c'è il comune, lì c'è i vigili, a destra e a sinistra c'è una casa per disabili. Parcheggio, quello è il parcheggio, si chiama Battindale, per gli autobus. Questo è il parcheggino del quartiere, palazzi, 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 palazzi. Adesso vogliono fare una nuova cosa, perché lassù, dietro a quei palazzi là, c'è, non so come spiegarvelo, Allora, questo posto qua, dove cammino io, rimane più in basso. La strada principale, che è una specie di superstrada, rimane più in alto. E ci sono delle collinette, ecco, su quelle collinette lì, ah, niente, vogliono cavare il battindano, qua il deposto. E poi su quelle scollinette che vi dicevo io, vogliono fare piscine, campi da tennis. Sì, però qua a Bologna ne dicono di cose. Una volta si erano messi in testa di fare la metropolitana. L'hai mai vista, la metropolitana a Bologna? Hanno discusso per dieci anni. E la piscina, la piscina, volevano fare la piscina con un sistema che si copriva d'inverno e si scopriva d'estate. Oh, sono stati vent'anni, perché questo non andava bene, quello non andava bene, quello là era fuori norma, quello là non era posto. E poi hanno scoperto che la piscina era di un centimetro più corta del... Avete presente che le piscine hanno delle grandezze standard, se non non puoi registrare i record? Ecco, era un centimetro più corto. Hanno disfatto tutta la piscina. Io non so quanti miliardi di euro c'erano... Miliardi no, ma sicuramente milioni sì. Ah, io l'ho seguito per i primi anni, poi mi avete mandato a fanculo. Se fossero vostri soldi, non lo fareste. Poi alla fine ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatto dopo vent'anni. Però fa che gare, perché prima avevamo una piscina scoperta che andavi là, sui derogoni, prendivi il sole, ti facevi il tuffo. Ecco, due metri, bello, bello. Trampolino. C'era quello da due, quello da quattro, quello da sette. Anche quello da dieci. Adesso è tutto trasferito. Ecco, questo qui invece, qui c'era un gasometro. Un gasometro è una costruzione alta, 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 che ci sta dentro il gas. Poi si abbassa, man mano che si abbassa la, che la gente tira il rubinetto di gas, no? L'hanno tirato giù e hanno fatto un ospedale, un ospedale micidiale. Tutto questo. Allora, questo qua è un ospedale per gli anziani. È tipo casa di riposo. Ci sono 36 appartamenti per quelli autosufficienti. C'è un diurno lì. Quelli meno autosufficienti. Poi di là c'è dei reparti, ma è lungo, lungo, lungo. È basso, ma è lungo che non finisce più. E là, là di là ci sono dei cosi, dei reparti, più o meno la gravità delle persone. Perché c'è della gente che sono GDA, si chiamano gravi disabili acquisiti. Perciò, quelli che ci tolgono una gamba, due gambe. Là ci stanno quelli proprio messi in mano. Poi vi dicevo, qua continuano i palazzi, i palazzi, questi palazzi, i palazzi, i palazzi. I palazzi, i giardini. I giardini, là c'è una palestra enorme. Più avanti. Pietro quel palazzo lì. Ecco, il quartiere finisce lì. Lì più avanti un chilometro. C'è il Reno, che è un fiume, non è un fiume tanto grande, dà i suoi problemi, ma in genere, è caldo. Più avanti un chilometro c'è il Reno, finisce il quartiere. Poi torno lassù, torno a tutti i palazzi, palazzi, palazzi. E dopo torniamo dove ho ricominciato il video io. Qua hanno costruito una fogna grandissima, ma tanto anni fa. Una fogna, una fogna sotterranea per tutti questi palazzi qua. Questi, 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 quelli. Adesso non so come si chiama, qui danno il nome Firenze, fogna Firenze. Così. E adesso non ci tirano più fuori i piedi, perché devono costruire ancora, ma è una cosa mega difficilissima. Hanno portato i tubi anni fa, poi li hanno riportati indietro, e poi adesso si pensa che lo vogliono rifare. Vediamo. Mamma mia. Qui, adesso non vi tedio, altri giardini, io adesso taglio, perché sennò non arrivo a lavorare in tempo, altri giardini, altri palazzi.